Talvolta ci dimentichiamo di quanto possa essere semplice la fede. Prendiamo le cose in maniera forse troppo complicata, dobbiamo tornare a un linguaggio più semplice, a una comprensione più lineare. La Chiesa possiede la verità. Sappiamo cos'è il matrimonio e la vita familiare, il progetto di Dio su di essi. Il nostro ruolo è dunque quello di fare in modo di comunicare questo bellissimo messaggio alle persone che ci circondano e che serviamo. Ritengo che la sfida più grande sia quella di esprimere questo messaggio con un linguaggio che possiamo usare con le persone che serviamo. Ritengo che Papa Francesco ci stia offrendo la speranza e vedo questo sinodo straordinario come un'opportunità per noi, come Chiesa Cattolica, di metterci in attento ascolto, di raccogliere poi tutte le informazioni provenienti da tutto il mondo e tornare per condividere, speriamo, la gioia di questa buona novella con tutti. Grazie. Grazie. Grazie.